Sono un antifascista, un comunista e lì c'è una guerra contro il fascismo, quindi chiunque crede in questi ideali sposano una causa e io lotto anche adesso, anche oggi contro il fascismo, lo faccio cercando di denunciare la situazione che c'è in questo paese. Ecco ma lei ha vissuto due anni lì, ci può raccontare, le ripeto, io rispetto le regole d'ingaggio, però lei ci deve raccontare che cosa allora, io sono un comunista, vado là, però lì ci sono anche i fascisti che stanno con lei, cioè una roba un po' strana. Beh allora no, iniziamo subito a quantificare i problemi. Mi parli di quei due anni, cosa l'ha colpita quando... Beh mi ha colpito il fatto che non se ne parlasse, che ci fosse questa grande contraddizione, che una regione abbastanza grande si è sollevata, anche economicamente, si è sollevata contro il nazismo e questa cosa non veniva assolutamente recepita. Ma quando lei dice contro il nazismo, scusi, lei parla dell'Ucraina? Io parlo dell'Ucraina, ma non specificatamente tutta l'Ucraina, perché... Cioè lei parla del 2014, della rivolta... Esatto, però attenzione, l'Ucraina è un paese con una fiera coscienza antifascista, questo va detto, se c'è un problema del nazismo è perché gli è stato instillato da fuori, il paese da solo non l'avrebbe mai maturata questa cosa, è stata l'ingerenza occidentale che ha fatto leva su queste forze per cercare di ottenere un vantaggio e per cercare di riuscire a fare prima un cambio di regime e poi quella che loro chiamano normalizzazione del Donbass. Ma cosa ha visto? La guerra. Senza esclusione di colpi? Attenzione, no. Perché sa... La collega prima diceva dei crimini di guerra. Io posso parlare e testimoniare per quanto riguarda la brigata Pritzrak, che non è mai stata la brigata più politicizzata all'interno della Repubblica Popolare di Lugansk, la brigata anche all'interno del quale era presente Interunit, il corpo degli internazionalisti e che non è mai stata ripresa da nessun organismo internazionale per nessun eccesso, per nessuna violenza e per nessun fatto da appuntare. È credibile, Alessandra, questo racconto comunque? Grazie.